Montesilvano esprime il suo no al referendum costituzionale che chiamerà il voto gli italiani il prossimo ottobre. Il DDL Boschi prevede, oltre al superamento dell'attuale bicamerismo perfetto, la revisione dell'iterlegislativo, modifica il sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale. Alcune modifica la disciplina dei referendum, un nuovo riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, la soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. La riforma in sé che non accettiamo è una riforma che va contro gli interessi dei cittadini e ci è stata presentata in un modo quando in realtà la realtà è stata assolutamente travisata. Oggi piuttosto che pensare a delle soluzioni che non accontentano nessuno ma che aggravano i problemi, probabilmente bisognerebbe pensare a rinnovare tutte quelle situazioni che meritano una risposta urgente. Bisogna far ripartire l'economia, bisogna far ripartire il lavoro, bisogna far ripartire i consumi. Ma oggi purtroppo ci si fossilizza su una riforma che probabilmente è anche antidemocratica, che non accontenterebbe nessuno. Montesilvano vuole dire a gran voce e con un'unica voce no alla riforma costituzionale. Nei prossimi mesi saremo chiamati ad esprimere un'opinione su quelle che sono le modifiche proposte dal governo Renzi e tutti i consiglieri della città di Montesilvano, unitamente alla Giunta e il primo cittadino, dicono no. No, ripeto, in maniera unitaria e univoca rispetto a quello che saremo chiamati ad esprimere.